Il grano saraceno è una pianta erbace appartenente alla famiglia delle poligonacee che cresce nei climi freddi dell'Europa orientale, ma è diffuso anche nel nord Italia e con esso si confezionano tradizionalmente i pizzoccheri e la polenta taragna. La sua caratteristica è la ricchezza di magnesio, di ferro, di fibre, ma soprattutto di una sostanza particolare, la rutina che contribuisce all'elasticità dei capillari. Per questo è molto adatto per tutti durante la stagione fredda, ma particolarmente anche per le donne in gravidanza, negli sportivi e nei vegetariani grazie anche alle sue proteine. È un ottimo rimedio anche contro la stanchezza e il deperimento organico. In cucina si tosta preferibilmente per esaltarne il sapore e poi si cuoce come il riso, circa 20 minuti in una quantità d'acqua doppia rispetto a quella del cereale, ma anche direttamente dentro alla minestra. È ottimo caldo, ma anche freddo in insalate e gli abbinamenti consigliati, oltre che con le verdure e con i legumi, sono con il tofu, ma anche con i frutti di mare.